Oggi vi faccio vedere come controllare quali applicazioni consumano più batteria nel vostro smartphone Android. Se il vostro telefono si scarica troppo velocemente, probabilmente può dipendere proprio dalle applicazioni che avete installato. Applicazioni che continuano a funzionare in background anche se non le state utilizzando, in questo video vi farò vedere come capire quali sono proprio le app che consumano più batteria e vi farò vedere anche come evitare che consumino batteria in background. Per farlo dovete andare nelle impostazioni del vostro dispositivo Android, scegliere la voce relativa alla batteria e nella voce utilizzo batteria. Potrete vedere un elenco di tutti i servizi che in percentuale consumano più batteria. Nella schermata principale relativa alla batteria, scorrendo in basso invece, potrete vedere un elenco di applicazioni. Queste sono proprio le applicazioni che consumano più batteria e che scaricano lo smartphone più velocemente. Se volete evitare che le applicazioni consumino batteria quando non sono in utilizzo, tutto quello che dovrete fare sarà selezionare ognuna delle applicazioni che volete e scorrere in basso per poi disattivare proprio la voce che permette l'utilizzo dell'applicazione anche in background, quindi quando non è attiva. A questo punto il gioco è fatto. Se il problema del consumo veloce dipende proprio dalle applicazioni, in questo modo disattivando le applicazioni che non utilizzate o che non volete, che funzionino nel background, il problema dovrebbe essere risolto almeno in parte. Io sono Dario Caliendo, l'appuntamento al prossimo video di TechFanPage. Grazie per la visione!